Il flot per mettere in difficoltà la ricezione di Milano. Anche qui va tagliato Ishikawa, ci arriva però Kovacic poi in qualche modo sull'attacco di Recine Milano deve regalare la free ball con un po' di indecisione e indecisione anche di Ravenna. Abbiamo visto della grandissima pallavolo fin qui, qui forse abbiamo visto i primi sbarioni di entrambe le squadre. Esatto, esatto. La prendo io, la prendi tu e cade per terra. Sei pari.